Buongiorno Vita! Ti posso chiamare Vita professore? Ma tu sai che vuol dire non dormire per 5 o 6 giorni di città? Perdona, perdona te, che vi sto dando fastidio! Alla venite, ma è teatro! Ma quando lo facciamo, questo è l'altro! Qui si dormire da Harrilu e Brutte Se faccia una regla subita a te In attia se vuoi desiderato a raffa In sempre sol di guano in buon città ha preso? sei impiccato? vado a lui e queste sono cose che succedono a chi non sa stare chiuso e io chiusa non ci sa proprio stare perchè poi quando uno va in teatro c'è proprio il cuore aperto si fa lancato e tu stai da zitta mi senti a frango? tranquillo no niente perchè non ci fanno dare sesso ma se è il nuovo pubblico questo cose pazze cose ora sono 15 anni che sta chiusa qua dentro ecco voi dovete dare la garanzia che io come lei non ci divento no la garanzia non me la posso dare io la garanzia me la dovete dare voi no io non mi fido di me io mi fido di voi asisten asisten o lo d'unale non è giallo no 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 voi in realtà siete i peggiori siete perché almeno a questi li possiamo odiare noi li dobbiamo pure collere bene perché voi la verità caccia le valiminate e basta a libertà c'è ancora il suo profumo sulle mani vita ma secondo te no secondo te io sono ancora una bella donna a me mi piacciono gli odori a me mi piacciono i trattori a me mi piacciono i lottel a me mi piacciono i ulices a libertà ma la verità vabbè secondo te io no qua dentro ce la posso fare e qui ci fa paradià paradià Grazie per la visione!